Ciao a tutti, stiamo provando i nuovi bastoni, le nuove canne italiane e anche delle nuove protezioni. Le nuove canne sono fondamentalmente canne di legno di castagno del Trentino, che vengono preparate con una protezione in gomma naturale e anche questa assolutamente made in Italy, mentre invece le protezioni le stiamo testando sotto questa maglietta, c'è un nuovo tipo di protezione che copre praticamente tutto il busto, dalle costole all'addome, il petto, la clavicola, la spalla, il braccio e anche tutta la parte dietro della schiena è completamente imbottita. Il tipo di protezione simula il D3O, quindi è morbida e nel momento in cui riceve l'impatto si indurisce. Adesso faremo un attimo una prova di combattimento con Nicolas, in modo tale che potrete vedere quanto arrivano i colpi forti e quanto praticamente sotto poi alzerò la maglietta e vedete che non ci sarà nessun seguito. ok praticamente l'effetto è quello di pack a mano aperta sul corpo, non si sente nessun colpo diciamo di punta e non si sente neanche nessun colpo di taglio. L'effetto è praticamente fantastico quindi direi che i test stanno funzionando, rimanete sintonizzati sul canale e saprete anche come o insomma procurarvela o acquistarla. Ciao a tutti!